Io non c'ho più voce ragazzi, sono facendo una fatica a parlare che non avete idea Andiamo a tilt, è di nuovo? Che dite? Proviamo Mi è partito l'autismo Mi sei scilmocciolo dal naso, porco due, che schifo Che schifo Che schifo Voglio ammalarmi anch'io, sì, tutti i sbordi Sì, vecchio Ma alla fine ragazzi, il muco È la sborda del naso No Che cazzo sei Che schifo Basta, basta Sto rumore di satan And then 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 Ragazzi Aspetta Aspetta Gianco è un nobile delle campagne sardine Cominciamo bene Regà Ma che Vessero Già storti i piedi Ma Che cazzo ho detto Per venire E' finita C'è uno col pump sopra Lo scopo Lo scopo Lo scopo Lo scopo Lo scopo Faccio schifo Questo rumore Un drago Un drago Un è sotto di me No 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 Che cazzo è sotto di te Dove cazzo siete Motherfucker Sono sotto Ragazzi Io ho un peto Da lanciarmi Da dieci minuti Oh Mi spara quello lì Sopra clock tower Regà Clock tower Veramente C'è Quanto è moglie Dino una cecchina Ad assurda No Non toccare Gianco Bastardo No C'è uno in casa Regà 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 Questa bene Cazzadissimo No Regà No 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 Bella Regà Io mi do Bella No Ti sono venuto a salvare Oddio 112 Oddio No Fra No Ma perché Non l'hai Tato Non uccidere Bastardo È sopra Regà Non do niente Mi hai planato Proprio In culo guarda che questi teletrasporti in tempo x è che qualcosa come faccio io a risolvere stessa situazione dai sopra il frigorifero da boccia ma da che fatta sono in assio per lui spetta giovane ciao benissimo sono capo di scuola basta gente ora no no ma adesso quando vedremo gli scheletri non avremo più paura che cazzo fa ragazzi da grande voglio voglio rinascere giorgio power poter giocare come lui ma per le fighe che minchia o per il modo giorgio secondo me abbiamo abbracciato qualcuno io e te che c'era la peste porca c'era qualcuno che faceva il novax che cazzo era pensate quel giochino dove devi fare il virus come si chiama plug in plug in cellulare uguale ragazzi ragà ma mi dico io no ma se avete la febbre ma stata a casa ma che cazzo venite le fiere con i piccoli germi io mi sento che sul petto è come se ci avessi caroline di gabbo dopo che hanno mangiato e mister cura il cinghiale bravi cinso dei mini cinghiali vabbè vado a morire a da sti tipo 1 2 come faccio ad ammazzare tutti adesso ti arriva una cecchina luminoso luminoso l'altro non so perché ho visto che alcuni sono tipo strano luminoso o bello stare belli questi colpi è incazzato rotto è incazzatissimo vecchio però solo andava avanti come un treno adesso queste schizzi sono tutti forti adesso questa skin tipo perso valore non ha perso valore l'ha acquisito e si quanto hanno fatturato oggi loro qua non ha perso valore l'ha acquisito ma non è la destra davanti qui can do this no fra la tramortico aiuto senante no ragazzi aiuto devi farti venire la febbre più spesso capo delu gianco ci penso io ma poi sapete qual è il problema che mi veniva da tossire quindi cercavo di inghiottire la tosse per non chiedere gli occhi e quindi stavo soffrendo il cervello stavo tipo soffrendo dal gol trooper dovrebbe uscire o questo week o questo questa sera così mettono entrambe le skin nello shop con la versione pure maschio sicuramente o secondo me uscirà il 28 però esce già la storia ma leggendaria noi c'è viola come questa gabbo è leggendario che palle combattere a questa altezza 10 solo 10 mamma mia doppietta oddio mamma quasi ucciso comunque vedete qual è il problema questo sono due giocatori molto bravi e io ho sprecato 700 di materiale per fai tarli cioè regalo comunque è ma oddio sbagliato tasto è però il problema di una situazione del genere di sprecare così tanti materiali che non possono avere un altro fight qui c'è quindi il gioco premia qua la sopravvivenza e l'aspettare mamma mia c'è il mostro a colorarsi finito vabbè zio ma l'ammazzare tutti tutti così morca puttana non sei che spettacolo ragazzi ma davvero vederti giocare uno spettacolo zio sto impazzendo perché questo è bravo a giocare però non c'è creduto troppo ci sta credendo un po troppo bravo e ora vado a mettere la trappola si vado a mettere sta ceppa de gazzo mamma mia zio poi con l'accento romano sei cattivissimo tu scherzi zio power ma tu sai quanto in alto in italia hai portato il pro gaming tu in 4 mesi ma pure Gizu che è con lol ora sta ai mondiali di lol che è l'apice delle competizioni lo so zio ma lol in italia non lo guardano tanto no in verità lol è seguitissima che qua fortunatamente c'è un gioco dove c'è un'età minore quindi la gente è in strada più velocemente verso il giocare competitivo quindi magari quando questo gioco morirà completamente perché è una cosa normale che succede che accade negli anni quelle stesse persone giocheranno ad altri giochi poi in un futuro ed è quella la cosa bella c'è un muro 20 bombe eh vediamo un po va pacco tu va io pacco wow oh my god lì dov'è? quello è il terzo incomodo beh che cazzo cosa stanno facendo quei due? ehm mi sono intorno a guardare la screen perchè non vedo ehm ho visto dove è l'altro no no è oddio è dietro è alzini ehm nord ovest ok 1v1 situation fanatic power più che altro ha il cecchino quello grosso mi sa lui beh si vediamo se gli spazi vediamo se gli spazi se mi usa il rampito e mi ammazza gg a lui eh i pazzi no 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 gg a lui se usa il rampito mi fa così eccolo i do sì no l'éte No vabbè 20 bomb ragazzi Fanatic power Ce l'abbiamo noi Ce l'abbiamo noi Giorgio Power Ciao YouTube Ciao YouTube